Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi andiamo a vedere come scaricare, crackare e installare Nero 2016 Platinum. Il più passaggio da fare è andare sotto a RENZ, leggerò il link in descrizione e andiamo a scrivere il nome della crack interessata, quindi andiamo a scrivere Nero 16 Crack. Andiamo a cercare, escono 27 risultati, andiamo sul secondo, andiamo su 1337 per tu, aspettiamo che si carichi la pagina, un'altra che la pagina si è caricata, andiamo su Torrent Dolan e ora aspettiamo che si scarichi il file del torrent. Un'altra che il file del torrent si è scaricato, andiamo a cliccarci sopra e andiamo a scaricarlo, va bene sia su Torrent e sia su BitTorrent. Un'altra che il torrent si è scaricato, andiamo su Continua e andiamo ad estrarre i file del ZIP e ci vediamo dopo che WeRar ha estratto i file di Nero. Quando WeRar vi chiederà, a 99% vi chiederà della sostituzione di file, andiamo a cliccare su Sì a tutti e avete completato. Allora andiamo sulla cartella nero e andiamo ad installare il setup, ma prima di fare questo andiamo ad estrarre i file sulla patch e un'altra che abbiamo estratto i file, ora dobbiamo andare ad installare il setup. Andiamo a cliccarci su due volte, aspettiamo che uscirà il setup, attendiamo il caricamento, andiamo a cliccare su Esegui e aspettiamo che c'è la finestra. Ora sta facendo l'estrazione, come vedete sta a zero, deve arrivare ovviamente a 100 e ci vediamo dopo che si è completato. Quando Nero ha finito di estrarre i file, cliccare Sì, si permette del controllo dell'account dell'utente, clicchiamo su Sì, si chiuderà la finestra e andiamo ad installare Reboot Validator. Chi ce l'ha già installato non lo deve scaricare. Una volta che abbiamo installato Reboot Validator, ecco qui ragazzi, questo è il seriale, come voi potete vedere, 9066, 8097, eccetera. Mettiamo questo numero di seriale, se non vi comparirà subito, mettetelo voi oppure cliccate su Avanti, come è capitato a me. Andiamo su Avanti, andiamo su Accetto i termini della licenza, no grazie, io non voglio partecipare a programmi di aggiornamento, se voi volete partecipare, cliccate su Partecipa, andiamo a cliccare su Installa e ora dobbiamo aspettare un po' di tempo, circa 10 minuti, per completare l'installazione. Una volta che l'installazione si è completata, come potete vedere, uscirà l'icona di nero 2016. Andiamo ad aprirlo per vedere se la Crack si è messa. Per vedere se la Crack si è messa, dobbiamo andare qui, andiamo a cliccare su Nero Control Center e dobbiamo andare a vedere la scadenza. Come vedete, ragazzi, la scadenza è Mai, quindi nero 2016 non scadrà. Quindi abbiamo messo la Crack e quindi la Crack è funzionante. Per questo è tutto, lasciate un bel mi piace, un bel commento e se vi va iscrivete al canale. Bella ragazzi! Ciao!